stava intervistando il marito di Liliana, la donna scomparsa e poi ritrovata nelle ultime ore senza vita. La giornalista di Medias e Tilaria dalle palle si sarebbe intromessa durante l'intervista, scatenando l'ira di Alberto Matano. Dopo settimane Simona Branchetti lascia il programma. Grazie per il vostro tempo. Speriamo di vederci presto. Grazie alla squadra che ha lavorato con me. Con queste parole Simona porta a termine pomeriggio 5 News. Da lunedì 17 gennaio torna, come previsto Barbara D'Urso, con una nuova edizione di pomeriggio 5. Secondo voci di corridoio, presto la D'Urso potrebbe essere spostata a Italia 1, dove dovrebbe condurre la pupa e il secchione. Sembrerebbe, stando ai rumors, che Barbara D'Urso abbia le ore contate a Mediaset. Grazie a tutti.